Abbiamo 1,23 di R con T che ci permetterebbe di passare in arancione, ma abbiamo 2,54, bisogna essere 2,49 di positivi su 100.000. Il Veneto rimane in zona rossa almeno fino a Pasquetta, ma se anche lo dovesse restare successivamente, le scuole dall'infanzia fino alla prima media riapriranno. Quest'ultima novità è stata comunicata dal Premier Draghi a seguito della riunione della cabina di regia e sulle scuole si è espresso anche il Presidente Zaia, sottolineando la necessità di uno screening con i tamponi per gli studenti. Le scuole, secondo me, l'apertura è affrontabile, è sostenibile, ma va fatta garantita ai ragazzi e alle famiglie con i test. Test che non è che possiamo fare tutti i giorni, non possiamo vendere questa utopia, impossibile. Però a cadenza, oppure utilizzando delle scuole sentinella numericamente più importanti di quelle che abbiamo oggi, potrebbe già essere una buona soluzione. Intanto prosegue la campagna vaccinale, ieri ne sono stati somministrati 24.000, contiamo, ha detto Zaia, di arrivare a 30.000. E per far correre la macchina serve la collaborazione di tutti, le ULS stanno facendo bandi interni per reclutare medici disponibili a vaccinare, ma si cercano anche tra i cittadini volontari per dare una mano nelle pratiche di accettazione o di accoglienza delle persone. C'è bisogno dell'aiuto di tutti. Abbiamo visto che sotto profilo assicurativo possiamo coinvolgere questi cittadini. Molti ragazzi ci chiedono di poter partecipare, ma sembra bella sta roba, no? Non ci sono solo gli angeli del fango, ci sono anche gli angeli dei vaccini. Probabilmente martedì sarà pronto il portale web per le prenotazioni ed è in chiusura anche l'accordo con le farmacie. Lunedì chiudiamo l'accordo con le farmacie per la prenotazione, ma mettiamo insieme alla prenotazione anche la compilazione dei vari documenti, soprattutto per le persone più anziane, questo insomma dovrebbe dare un supporto importante, un accompagnamento sia per le persone più anziane, ma anche nei nostri centri perché leviamo anche un po' poi di lavoro burocratico.